Celebrare l'arrivo dell'anno nuovo brindando all'ombra della Torre Eiffel è il sogno di tanti. Sarà per questo che, secondo Chief Advisor, Parigi è la destinazione più popolare tra gli italiani per festeggiare Capodanno. Le città estere in generale esercitano un certo fascino sui viaggiatori nostrani, visto che in questo periodo dell'anno la seconda meta più invita è Amsterdam, seguita da Londra. Roma, prima città italiana nella top 10 delle destinazioni più ricercate, si posiziona quarta. E se è vero che i prezzi degli alberghi crescono durante le festività, è anche vero che non in tutte le destinazioni crescono allo stesso modo. Fraga è infatti la capitale del rincaro, mentre New York, nonostante un incremento più ridotto, è comunque la destinazione più costosa tra quelle più ricercate.